buonasera e bentornati da dunkington catania siamo qui di nuovo con eros manforte oggi con un'altra decryst nuova e sei vestito da da loro perché ho portato oggi mi sono ti sei messo a questo è il planeswalker come direbbero gli apocriti come direbbero le persone normale anche le protege cat sono arrivate nuove guardate che belle d'ho scelto direttamente modificato oggi sono veri o sono sempre a tema del cosplay magari no io eviterei allora cominciamo dal reparto più leggero diciamo che è questo allora reparto leggero uso dei blogger che sono loro un 4x perché sono fortissimi sono i chopper per il reparto rosso quattro dinami che addano la crue di cappella di paglia quindi buona anche loro quattro di otama che l'ho usato onestamente sia come counter perché 2.000 ma anche per calarla levare 2.000 poi rimbalzarla grazie al effetto di low poi sempre costo 1 però per i verdi uso il blogger capone che di supernovas quindi addabile con lei che è sempre costo 1 effetto tappi un don tappi lei e guardi le prime cinque stesse cose che fa nami però lo puoi fare ogni turno se non la staccano quindi è fortissima poi per i costi 2 gioco 4 di brooke perché è sempre sono counter 2000 però a differenza di altri mazzi anche lui lo gioco perché essendo che lui rimbalza per il suo effetto questo qua è buono perché locali e gli metti due donne un po te lo riprendi quindi è molto buono con il suo effetto qualsiasi carta è giocabile con lui e poi gioco questo che sia per i counter 1000 sia perché resta un personaggio quindi è molto utile contro alcuni mazzi poi costo 3 abbiamo 40 immangabili perché l'izzoro sono rush e spaccano i voli fortissimi l'izzoro poi abbiamo 3 di nico robin forti contro alcuni mazzi contro il blu non dando però contro il resto dei mazzi a parte di viola è molto forte quindi fortissima anche lei killer nel gioco 2 è buono per l'effetto perché lei non play spacca un personaggio di costo 3 inferiore è restato quindi sia trigger sia no locali in situazioni dove riserva lei è una counter 2000 che resta un personaggio di 4 inferiore quindi fortissimo pure lei questi sono i tre poi di 5000 abbiamo di 5 scusate costo 5 abbiamo 4 low penso insieme a zoro è più forte del mazzo perché fortissimi lui fa lo stesso effetto di low praticamente quando entra rimbalza uno e ne cala un altro solo che non ha la differenza di colore la differenza di questo cioè può calare può rimbalzare un rosso e calare un rosso quindi rimbalzi zoro cali zoro attacchi di nuovo e poi due ruppi perché quattro sono pesanti quindi ne ho messi due il mazzo è molto leggero come vedete non c'è niente di troppo pesante poi c'è non lo perdi low questo qua quando va on play e prende un personaggio restato te lo rimetti dritto quindi zoro attaccati in nuovo anche col 2 questo qua on play spacca un personaggio restato di 4 inferiore questo qua attacco due volte praticamente perché attacco il personaggio può attaccare di nuovo e questi sono le carte che costano di più quindi 5 non ho carte che costano molto non gioco a kid non gioco queste cose regge pistol e basta questo qua è il mazzo oggi ho preso contro al primo turno un blu che era mia moglie però va bene comunque un blu e poi ho preso un rosso al secondo turno e l'ho battuto non ho perso neanche una partita al terzo ho preso un verde e ho perso la prima e ho vinto la seconda quindi abbiamo coreggiato questo è tutto c'è una ballista al momento in al momento non c'è nessuna ballista ma perché è uscito da poco probabilmente alcune carte e poi non più avanti ne abbanderanno perché ora non sono sgravatissime però con i futuri mazzi probabilmente con i leader futuri e diventeranno troppo forti quindi o le abbanderanno oppure usciranno cose sempre più sgravate come in yugioh e poi c'è la ballista di sicuro 100 per cento perché non si può giocare più ma invece i don sono sempre quelli umili allora io ho quelli umili però ogni espansione praticamente ogni box ne esce uno di quelli meno umili quindi c'è uno ogni box rarissimi sono uno ogni box i box sono in droghi possono in droghi poi ogni stazione sarà diverso il dono che esce io mi sto facendo modificare quindi sto facendo fare la signora archimede la signora che salutiamo archimede lo ringraziamo per tutto quello che fa per noi della comunità e basta va bene ci vediamo alla prossima una buona serata alla prossima ciao a tutti